ragazzi buonasera e benvenuti alla diretta settimanale di libri e le parole come va spero che vada tutto quanto bene e vi dico che questa sera farò una diretta un poco più particolare nel senso che il formato sarà diverso siccome mi avete chiesto ottavio fai delle dirette molto molto belle però spesso sono un po lunghe e sarebbe più comodo se magari tu queste dirette le dividessi così possiamo poterle vedere anche a varie parti per esempio la diretta si divide in due parti o in tre parti e io poi quando ho tempo comincio a vedere la prima parte poi dopo finisco di studiare vedo la seconda parte poi dopo faccio una passeggiata e mi sento intanto la terza parte quindi mi avete dato un ottimo suggerimento e quindi proverò a seguirlo e innanzitutto condivido la diretta nel gruppo così posso anche parlarvi dell'argomento di questa sera allora prima cosa condivisione ciao mauro ciao ciro buonasera intanto condivido la diretta all'intro gruppo cosa mi raccontate di bello come va mentre aspetto la vostra risposta perché purtroppo come si sa le dirette sono sempre sfalzate per quanto riguarda il timing quindi io intanto vi parlo ma quello che vi dico vi arriva dopo quindi mentre aspetto una vostra risposta ci vuole sempre un po di tempo intanto un like mi fa piacere allora cosa stavo dicendo stavo dicendo che le dirette in pratica per questi giorni proverò a farle con questo sistema diverso cioè vado a dividerle in questo modo vediamo un attimo se riuscite a utilizzarle nel migliore dei modi innanzitutto condivido all'interno del gruppo gruppo di libera le tue parole e poi intanto metto anche aggiungo anche le altre persone che così si potrà parlare ancora meglio lo salva buonasera anche a te la diretta l'ho già condivisa quindi buonasera attimo tutto bene tra poco preparo la cena bravo bravo mauro e che cosa prepari di bello in sardegna che cosa si mangia il venerdì sera nicola buonasera anche a te non ricordavo se ti avevo già salutato ok perfetto allora intanto stavo dicendo il formato della diretta di questa sera sarà una diretta molto molto breve e divisa in varie parti così potete sentirle quando ci sta tempo quando insomma potete sentire la prima parte la seconda parte la terza parte per esempio in una pausa studio in una pausa lavoro in una pausa pranzo ok allora come argomento di questa sera volevo innanzitutto parlare di una frase importantissima che condiviso all'interno del gruppo quindi solamente le persone che fanno parte del gruppo l'anoletta la frase è questa la motivazione dipende dai risultati e non viceversa questa parte qua però mi parlerò alla fine della diretta ok quindi per tutti quanti quelli che mi seguiranno potranno sentire tutto quanto quello che ho detto solamente alla fine di questa diretta ok ragazzi durante invece la parte più importante di questa diretta parlerò di come introdursi all'interno del mondo di libera letto parole cioè come poter comprendere cose la balbuzie quali sono le sue caratteristiche come quindi poter utilizzare al meglio il canale youtube come poter utilizzare al meglio la pagina facebook e anche il gruppo perché molte persone che in pratica hanno incominciato a seguirmi da pochissimo tempo non sanno come utilizzare al meglio il canale i video mi hanno chiesto ottaio ma da quali video devo iniziare franco buonasera io una buonasera e quindi siccome mi è stato chiesto ottaio da dove devo iniziare ok farò questi piccoli video allora quindi questa qua era semplicemente la parte introduttiva per parlarvi di quello di cui parlerò durante questa diretta durante questa serie di dirette di questa sera quindi adesso stacco questa diretta ricomincio l'altra così parleremo dell'argomento principale della prima diretta ok ragazzi a fra pochissimo grazie a tutti